Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org Cari amici, il mio tema oggi è il coronavirus che ha attaccato la Cina e che ha iniziato ad attaccare anche l'Occidente con le prime vittime in Italia. Le considerazioni da fare sarebbero molte, ma mi limito ad alcune. La prima, tutto ciò che non proviene dalla nostra volontà, è permesso dalla volontà di Dio. Dio permette che l'uomo sia afflitto dalle malattie. Questi mali ci fanno comprendere la nostra fragilità, che è una conseguenza del peccato originale, perché è stato solo dopo il primo peccato dei nostri progenitori, Adamo ed Eva, che le malattie, la sofferenza, la morte, hanno iniziato ad affliggere l'uomo. Le malattie ci ricordano, insomma, che siamo deboli e precari, che nulla possiamo con le nostre forze, che nei momenti di difficoltà e di sofferenza, come in ogni ora della nostra vita, dobbiamo ricorrere a Dio. Ma quando le malattie si manifestano, non solo sul piano individuale, ma su quello collettivo, come accade per le epidemie, ciò che Dio ci ricorda è la precarietà della società in cui viviamo. Questa vulnerabilità della società ha un rapporto diretto con il modo di vivere degli uomini. Non esiste infatti un peccato originale della società, ma esiste il peccato collettivo degli uomini che la compongono. E Dio punisce o premia i singoli uomini nella vita dell'aldilà, ma punisce e premia le società nell'aldiquà, nel loro orizzonte terreno, perché le società non hanno vita eterna, a differenza degli uomini. La Cina è un regime comunista, una società che si è emancipata da Dio, dalla legge divina e naturale, praticando ad esempio la politica dell'uccisione preventiva delle figlie femmine per aumentare la sua vita produttiva, un regime politico che oggi ambisce sostituire gli Stati Uniti alla testa dell'economia mondiale. Questo regime oggi è in ginocchio. Dopo aver cercato di occultare la verità sull'effettiva gravità della situazione, il presidente della Cina, Xi Yanping, nell'ultima riunione del comitato permanente del partito comunista, i sette uomini che governano il paese, ha detto che la situazione si aggrava, ma vinceremo questa battaglia. Ma le battaglie non si vincono mai quando si utilizza il sistema della menzogna. La manipolazione delle informazioni e il silenzio tenuto per troppo tempo prima di lanciare l'allarme sono una delle cause della tragedia cinese. L'ideologia comunista che ancora pervade la Cina trent'anni dopo la caduta del muro di Berlino non è estranea al dramma che si sta consumando in queste settimane. Il Wall Street Journal ha intitolato un suo articolo del 29 gennaio «E communist coronavirus, un coronavirus comunista». Il miraggio cinese di una società benestante entro il 2021, in occasione del centesimo anniversario del partito comunista cinese, oggi questo miraggio si dissolve. Il colosso cinese è in ginocchio, ma minaccia di travolgere nel suo crollo anche il sistema politico occidentale. Il coronavirus si combatte solo con una politica di verità, una politica che prima di essere sanitaria, basata sulla trasparenza, è culturale e morale. Solo la verità ci difende dagli errori e solo il bene ci difende dai mali fisici e morali. Questa verità e questo bene non si trova oggi né in Cina né in Occidente, ma è l'unica nostra speranza per il futuro. Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org www.radioromalibera.org www.radioromalibera.org